per ragazzi non so cominciare questo video mi sono spaccalato e bentornati in questo nuovissimo video oggi faremo una farm di villager la prima cosa bisogna creare questa piattaforma sotto c'è dell'acqua con uno slab in questa piattaforma 9 di lunghezza massima quindi alla pinna si fa una T in questo modo poi si collegano l'altra e si riempie tutto poi si mette la glowstone aspettate che la prendo si mette dai lati della T che vedete qua formando a T questo questi lati e poi devi cercare un blocco metterla qua tipo salto un blocco e la metti e poi salto due la metti poi salto uno e la metti qual salto due e la metti calcati uno e la metti quel salto due e la metti fantastico poi ragazzi qui bisogna piersere ai bordi le scale così i bordi sono questi quindi disegno la T quindi bisogna pierserebbe è e li aprono mette delle botole e bisogna riempire d'acqua lo faccio e poi ci vediamo dopo i buchi voti ci mettiamo due pezzi con le specie facciate la canzone importanti che i solidi dove c'è la palma davanti adesso io faccio e ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo